tra le tecniche di apertura una delle questioni fondamentali è porsi delle analisi di scenario il cosiddetto brainstorming per esempio è una tecnica che molti pensano di sapere padroneggiare ma guardate che non è mica affatto scontata anche i modelli più semplici di strategia come per esempio la SWOT che conoscono tutti appunto il brainstorming sono delle cose che fatte a livelli profondi precisi e professionali sono tutt'altro che facili da fare mettersi attorno a un tavolo e sbraitare o dire ciascuno la propria opinione non è fare brainstorming significa avere una metodologia precisa e dal brainstorming deve derivare un altro strumento che si chiama scenario analysis cioè l'analisi degli scenari e poi dall'analisi degli scenari ci sono altre due diramazioni che sono la mappa dei rischi e la mappa delle opportunità che sono delle mappe nelle quali bisogna mettere su assi cartesiani le matrici di impatto e di probabilità ecco è un fatto tecnico capire questi strumenti e saperli rappresentare qualcuno penserà ma queste sono cose soltanto per le grandi imprese le multinazionali niente affatto le ho fatte ieri con un'impresa di piccola dimensione del settore ristorazione certo un imprenditrice molto particolare una donna acculturata preparata interessata a continuare a conoscere cose nuove che ha avuto un'esperienza manageriale in passato e che poi a un certo punto la sua vita decide di fare dei percorsi diciamo di costruzione di impresa e che oggi avendo ottenuto dei risultati importanti in su di un pino primo piano di sviluppo dice adesso voglio fare il salto ma per fare il salto bisogna sapere parlare come fanno le multinazionali e qualcuno dirà eh vabbè ma io non sono una multinazionale non la sarò mai non c'entra io stasera ho ricevuto una mail della mia banca nella quale mi spiega che a seguito degli sg la voleva la volevamo informare che le normative se vuole partecipare al sondaggio cosa vi dicevo qualche mese fa arriveranno queste cose sul mercato italiano e puntualmente come ho ricevuto la mail io l'avrete ricevuto anche voi della vostra banca no che vi chiedono soldati sondaggi per esempio se per la cosiddetta csr cioè la la corporate social responsibility per gli sg quindi environment social governance queste cose stanno diventando linguaggio di ogni giorno allora aperture vuol dire sapere rispondere in termini di apertura al mercato a documenti scritti con altri documenti scritti che sono delle presentazioni aziendali fondamentali strategiche per la sopravvivenza dell'azienda perché è perché il rinnovo dei fidi un giorno dipenderà da questo e perché lavorare nell'indotto dipenderà da questo e perché è perché in una filiera dovrai rispettare un certo tipo di linguaggio di metodologia e di procedura non vi piace mi dispiace ma il mondo sta andando in quella direzione lì e quindi che voi siete piccoli non è una scusa per non capire dove sta andando la direzione non del mondo del vostro mondo ci vediamo alla prossima